un argomento ansiogeno terribile nemico di tutti i webmaster e nemico di tutti i moderatori di gruppi seo che devono leggere sempre le stesse cose e sempre le stesse risposte più o meno sbagliate i contenuti duplicati penalizzano no non penalizzano i contenuti duplicati sono di due tipologie differenti ci sono quelli innocui e quelli invece che fanno male ovvero in questo caso si forse penalizzano ma non sono i contenuti duplicati dei quali si lamenta molta gente i contenuti duplicati innocui sono quelli che troviamo per esempio negli e-commerce quando andiamo a duplicare dei testi tecnici su oggetti molto simili oppure qualche giorno fa hanno fatto un esempio sui fatti di seo il sito che parla di bomboniere a 2000 foto di bomboniere e nel tag alt viene riportato bomboniere 2000 volte ma è giusto che sia così perché se in quel preciso elemento della pagina va descritta l'immagine l'immagine una bomboniera è naturale che ci siano le bomboniere sul sito parla di bomboniere sarà pieno di foto di bomboniere ma google è abbastanza furbo da capire che è normale che sia così anche le formule legali se possono essere utili se le duplichiamo non succede niente magari avete sentito proprio me dire un anno due fa che si poteva pensare di mettere per esempio un'immagine così che non fosse scansionato il testo o metterci dentro il javascript ma ho capito aumentando diciamo l'esperienza sul campo che semplicemente google se ne sbatte le palle l'unico problema che possono dare i contenuti duplicati quando sono veramente troppo duplicati è la famosa cannibalizzazione ovvero che le pagine si mangiano l'un l'altro semplicemente google va a decidere su due pagine che sono rilevanti per la stessa cosa che sono ottimizzate più o meno per la stessa cosa decide lui quale andrà dentro all'indice quale si posizionerà ma questo è un problema che si può ovviare quando due pagine sono esattamente uguali per un qualsiasi motivo per esempio i famosi oggetti multicolor con il canonical che è fatta apposta e ci dice qual è la pagina canonica possiamo usarlo anche quando facciamo content sedication se per esempio andiamo a prendere un contenuto da un altro nostro sito e lo vogliamo lo stesso dare al pubblico di un altro sito ancora e ci mettiamo il canonical cross domain che si può fare si mette un link verso la pagina principale lo fa per esempio non lo so scoop.it che riprende tantissimi articoli di diversi siti perché è un sistema di syndication ed è giusto ci sono le linee guida sono stati creati degli strumenti appositi per gestire questi problemi ma i contenuti duplicati non vi andranno a penalizzare se non li fate appositamente per rancare meglio quando sono usati in modo malevolo quando sono usati consciamente in modo malevolo tempo fa si parlava di panda e un seo diceva che pochi hanno risolto panda in italia a me è capitato due volte una di queste volte il problema principale è che il coppio aveva avuto la geniale idea di andare a rubare pezzi di testo a destra manca e di fare un sito fatto completamente di bricolage google lamenato quando sono stati tolti questi testi ed è stata migliorata la struttura è stato inserito contenuto unico panda è stato tolto e questa azienda si è tolta d'impaccio ecco lì i contenuti erano stati usati in modo malevolo perché erano stati copiati senza nessuna pietà ma soprattutto erano stati copiati per fare seo e si vedeva lontano un miglio era comprensibile c'era un pattern le penalizzazioni di google vanno sempre dietro ai pattern quando si cerca di scalare un sito nei contenuti copiando in un certo modo generando le pagine tutte uguali attraverso programmi e quant'altro insomma se non lo avete fatto con intenzioni malevole che non vuol dire ho copiato ma non volevo fare male a nessuno ma che non avete copiato per migliorare la seo al 99 per cento non vi succederà nulla come non succederà nulla per esempio se avete un pdf con la scheda tecnica e non vi ricordate di fare il canonical che si può fare tramite leader response anche e non avete indicato che l'avete preso dal sito del produttore per esempio e sono cose che capitano google abbastanza furba per capire che certi errori non sono fatti in modo malevolo magari preferirebbe un sito con un testo unico o magari se ti non acqueri dove il testo unico vi state raccapezzando per farlo non ne venite non ne venite a capo ma semplicemente perché questo testo unico non esiste se vendete forchette rosse e sono forchette rosse all'utente probabilmente fregherà solo della foto ma lo vedete benissimo guardando nella query quali sono i siti rilevanti in tanti cataloghi di arredamento di rivenditore di arredamento non c'è bisogno di testi unici per ogni oggetto uguale rivenduto in 2000 rivendite in tutta italia gli frega di più che sia strutturata l'esperienza in modo che l'utente possa sfogliare il catalogo sull'arredamento caggita tante volte che i siti non hanno bisogno di testo non hanno bisogno del google text della mappozza di testo e quindi sto contenuto duplicato state abbastanza tranquilli cercate di capire soprattutto se nella query serve o meno un certo tipo di testo io nei prodotti e-commerce dico sempre cercate di descrivere quali sono le problematiche uniche e specifiche che questo tipo di oggetto nel vostro catalogo va a risolvere ne troverete di roba da scrivere che non è stata scritta ne trovate sempre parecchia su certi tipi di siti se invece vendete i mobili che vendono tutti gli altri probabilmente avrete più successo se fate delle foto vostre belle accattivanti che uno invogliano la gente magari a comprare da voi e poi per esempio se avete dei prezzi più bassi insomma questi testi duplicati non devono essere un'ansia non si viene penalizzati perché avete un dettaglio tecnico ripetuto su più pagine vai a con dios ciao a tutti